Benvenuti, buonasera a tutti, vedo anche volti nuovi, benvenuti, amici dei Rotoli vi danno un caloroso benvenuto. Non vi preoccupate, per noi è già quinta serata, quinta conferenza, sono tutte diverse e tutte vanno in file e sono collegate, ma ciò nonostante cerchiamo di fare esposizione stasera in modo anche che chi è prima volta possa comunque comprendere di che cosa stiamo parlando. Poi ci sono anche dei DVD, non sono in vendita, sono a destinazione a omaggio, potete prenderli se volete lasciare un'offerta, fate pure, così potete vedere a causa le cose che abbiamo già passato e così lunedì possiamo continuare il nostro percorso. Per chi è prima volta stasera qui ovviamente, brevemente stiamo parlando dei manoscritti detti Rotoli del Mar Morto, perché queste pergamene, questi libri erano arrotolati e sono stati per caso trovati da un beduino, Muhammad Nibia, la tribù ala Batamire, che cercando la capra smarita ha lanciato una pietra anzi di trovare la capra smarita nell'interno della grotta 1, che è questa qui l'apertura della grotta 1, famosa grotta 1, e nell'interno della grotta 1 ha trovato le giare con i manoscritti, così dal 1947 fino al 1956, durante nove anni sono state individuate undici grotte con dentro giare di terracotta o manoscritti, che oggi sono protetti nel museo, scrigno del libro, a Gerusalemme una specie di rifugio anti-atomico oltre nel museo degli antichi di Gerusalemme, rappresentano una delle più grandi scoperte archeologiche dei tempi moderni, dei manoscritti dell'epoca moderna. Durante 60 anni si è parlato molto nelle trasmissioni televisive e nei libri. Purtroppo c'è una categoria tra questi vanno scritti, voi vedrete il DVD numero 1 dove c'è dettagliata spiegazione di diverse categorie di scritti, ma solo una categoria dei rotoli, che erano più importanti di tutti i rotoli e oggi abbiamo i resti di circa 900 rotoli trovati qui nelle grotte di Qumran. Questa categoria che abitanti di Qumran avevano, detta categoria di scritti degli antichi, come Giuseppe Flavio ricorda, è stata la più importante per abitanti di Qumran, tanto che lui diceva loro preferivano dedicarsi al loro studio, prediligevano studio di questi rotoli. Quindi non è vero che tutti i rotoli 900 rotoli e il resto dei rotoli sono della stessa importanza, no, ci sono documenti di somma importanza e questo era conosciuto a Giuseppe Flavio storico, ma non solo a lui, nell'interno del villaggio di Qumran, gli stessi sedi, figli della luce che hanno adoperato Qumran, hanno lasciato le testimonianze che tra tutti i scritti solo una categoria dei scritti, sono scritti degli antichi, era la più importante, si dedicavano, come diceva anche Giuseppe Flavio, in maniera particolare al loro studio ogni giorno, perfino un terzo di notte, un terzo di giorno e mettevano in pratica, leggevano le cose che li trovavano iscritti degli antichi e poi a loro volta li studiavano, approfondivano e li copiavano anche. E quando copiavano, guardate qui il caso del rotolo della prima grotta, è un scritto degli antichi che è stato composto nel VIII secolo a.C., all'epoca dell'imperatore Sarbo, però questa è la copia del II secolo a.C. Quando hanno copiato questi manoscritti erano molto attenti a copiare, copiavano, vedete, scrivevano da destra a sinistra e questo rotolo è lungo 7 metri e più di 7 metri, quasi 7 metri e mezzo e praticamente questo rotolo è diviso dalle colonne. Finita una colonna, copiavano un'altra colonna e così via. Erano molto attenti a copiare, di solito un scriba leggeva un rotolo degli antichi, questi rotoli speciali, importanti, e diversi copiatori, cinque quanti erano, si sono trovati i calamai dove c'era inchiostro, i tavoli dove copiavano nel villaggio di Comranto e quando un scribano leggeva, altri copiavano, che hanno piano parola per parola. Dopo la copia, dopo aver copiato i rotoli, gli scribani effettuavano controllo, quindi il controllo doveva essere fatto in base anche a quello che è stato letto e a quello che è stato copiato, quindi è un doppio controllo. Se un scriba si stancava o perdeva concentrazione, come in questo caso è accaduto e ha saldato qualche parola o qualche frase o mezza frase, se c'era lo spazio poteva aggiungere quella parola o mezza frase nella zona dove mancava mezza frase. Era lecito a fare così, il testo è sempre identico a quello da cui è stato copiato, ma non toleravano assolutamente la possibilità di cancellare delle frasi o prendere con l'inchiostro e passarci sopra su qualcosa che ritenevano sbagliato, questo esattamente non si vede nei rotoli speciali. Non è così con i rotoli che abitanti di Qumran scrivevano e i rotoli di cui loro sono autori, faccio un esempio, in un altro rotolo, eccolo qua, il rotolo di cui gli abitanti di Qumran sono autori, eccolo qui, ingrandisco, questo è il rotolo della regola della comunità, e questo rotolo praticamente contiene le norme che loro seguivano e siccome l'hanno scritto loro, loro sono autori delle regole che hanno prestabilito che dovevano essere rispettate nel loro villaggio, in questo rotolo possiamo vedere dei cambiamenti. Guardate, in questo rotolo la differenza di rotoli speciali presenta qua delle scritte righe e qui vediamo del testo che è stato cancellato, tolto, quindi hanno fatto delle modifiche, vedete? Se guardate questa parte qui, ecco adesso se portiamo la diapositiva, in questa parte qui si legge praticamente delle norme che prestabilivano le punizioni e in questo caso hanno fatto il cambiamento, anziché di essere pulito shesh sei mesi, hanno scritto sopra, hanno cambiato un anno. Quindi così si rappresentano spesso i rotoli di cui parliamo, che sono stati trovati nelle grote e che sono praticamente il frutto di quanto abitanti di Qumran copiavano e scrivevano. Quindi la categoria speciale, come in questo caso, veniva curata con grande precisione, grande dedizione rispetto iscritti della comunità, dove potevano cancellare, dove si vedono le frasi cancellate, dove si vedono le modifiche e aggiungevano altre cose al posto del contenuto che hanno prestabilito, perché decidevano di fare. Sono rotoli loro, quindi non sono rotoli speciali, non sono rotoli degli antichi. Quindi già da questo si vede che c'è una differenza tra i rotoli del marmotto. Un'altra cosa molto bella è le categorie dei rotoli speciali. Nel rotolo che abbiamo visto poco fa, nei scritti degli antichi, sono stati individuati i testi che loro prendevano in considerazione. Sono dei testi, dei scritti degli antichi e sono divise in diverse categorie e questi scritti degli antichi loro predirigevano. Ecco, questo testo che vediamo qua, ingrandito, è lo stesso che vediamo anche qui. In questo testo, questa è la colonna numero 8 della regola della comunità, è descritto quello che Giuseppe Flavio sapeva, che hanno una cura straordinaria per scritti degli antichi e predirigevano, amavano di più leggere quelli e studiare. E infatti in questo scritto qua, regola della comunità, loro ammettono e scrivono che c'è una categoria dei rotoli speciali a cui riservano un terzo della giornata e un terzo di notte per leggere e dedicarsi al loro studio. E chiunque faceva parte di questa comunità, se c'erano dieci persone, non potevano mancare dieci persone senza che uno prendesse uno dei rotoli degli antichi e leggessero insieme. E qui c'è l'enco di questi scritti speciali. Nella colonna che vedete qua, centrale, numero 8, si sta parlando dei scritti Torah Moshe e un'altra categoria Haneli. E poi dei scritti che loro copiavano e citavano, raccontavano di un'altra categoria che il mio popolo ebraico chiama Ketuvim, che sarebbero scritti, che sono i salvi, cronache, citano e profezie del rotolo di Daniele. Nelle prime tre serate abbiamo visto profezie che in questi rotoli speciali loro copiavano e studiavano, profezie che hanno indicato avvenimenti che si sono realizzati nel tempo passato e che si stanno realizzando ancora oggi, nei nostri tempi. Per questo erano speciali, perché loro all'epoca dell'Ipero Romano si rendevano conto che questi scritti speciali sono diversi dai scritti normali delle letterature ebraiche che esistevano in quell'epoca. E quindi hanno qui indicato queste tre categorie. Nel DVD numero 1 e numero 2 e anche il numero 3 troverete le tre serate con le profezie delle conferenze che abbiamo spato, che questi scritti degli antichi speciali hanno rivelato tanto tempo fa nell'antichità e queste profezie si sono realizzate fino ai nostri giorni e si sono realizzate nel Medioevo, prima di Cristo, dopo e si stanno realizzando ancora oggi. La rotola della prima grotta, che è un scritto dei rotoli speciali, racconta che ci sono informazioni che riguardano il futuro e racconta che le informazioni che sono le profezie antiche si sono già realizzate in passato e vengono date informazioni nuove sul futuro. Per questo motivo, abitanti di Qumran leggevano, si dedicavano a questa categoria di scritti. Da quando è iniziata questa categoria di scritti? Dove ci fu l'origine di categoria di questi scritti? Vi ricordate che ieri sera abbiamo parlato del Monte Sinai? Abbiamo parlato del racconto dell'esodo dall'Egitto del popolo ebraico, passando per mezzo al Mar Rosso e degli riscontri che scienziati, archeologi, studiosi, hanno trovato reperti, sia partendo dalla terra di Ghoshem in Egitto, sia nel deserto, dove hanno potuto stabilire dove c'è stato questo incontro col Mosè sul Monte Sinai. Anticamente, i rotoli che abitanti di Qumran testi copiamano, dicevano che sul Monte Sinai è sceso l'Eterno e in un fuoco divorante nella sua gloria e quel fuoco ha bruciato la cima del Monte Sinai. Infatti esiste in Arabia, di fronte a Egitto, nel deserto, il Monte Sinai, che è una cima completamente bruciata. E questo monte è particolare perché, tra l'altro, è circondato perché è vietato venire in questa zona, perché è diventata una base militare, ultrasorvegliata e protetta. I studiosi archeologi hanno trovato che in cima a questo monte, ai piedi di questo monte, in questa zona, ci sono le tracce dell'insegnamento degli uomini, dei umani, che hanno nel tempo antico lasciato le tracce, le vignette di tante altre cose che testimoniano che si sta parlando delle persone che erano qui di passaggio di una certa epoca, perché per quello che lasciavano le tracce delle vignette, possono portare le documentazioni che dimostrano che qui c'è stato accampamento nel passato dalle persone che siano fermati a piedi di questo monte. Ora, nei scritti antichi che abitanti di Qumran copiavano, si sta parlando quando è nato l'inizio e l'origine di scritti speciali, rotoli speciali perché sono speciali. Si sta parlando che su quel cima del monte, l'Eterno Elohim Adonai ha chiesto, visto che il popolo ebraico era stabilito nelle tende, di avere una tenda costruita per lui. Fece richiesta, fatemi una tenda, un tabernacolo che io possa abitare in mezzo a voi. E nell'interno di questa tenda ha richiesto degli areti speciali, l'arca del patto con dentro due tavole di pietra tagliate, l'oggetto più ricercato dal punto di vista archeologico e si dice che nell'interno di questa tenda c'era un candelabro d'oro, gli areti fatti in una certa maniera come scritto in questi antichi rotoli e si dice che dietro la tenda, seconda stanza, c'era l'apparizione, la parola in ebraico Shekinah, apparizione di questa luce potentissima della presenza dell'Eterno in mezzo a quel tabernacolo e quella tenda. E nessuno poteva entrare dietro quella tenda, questa arca del patto, arca della testimonianza, l'oggetto archeologico più cercato. Ancora oggi molti studiosi archeologi stanno cercando e stanno studiando di capire in quale zona questa l'arca del patto dell'Alleanza è stata nascosta dal mio popolo ebraico prima che Gerusalemme fosse distrutta dai babilonesi. Quindi da qualche parte, come i rotoli antichi che erano nascosti per due mila anni dentro le grote, è un bedoino o per caso l'ha trovato, da qualche parte vicino a Gerusalemme, in prossimità di Gerusalemme, in qualche grota segreta, come scrive Notoli, fu nascosta prima della distruzione della Gerusalemme da parte dell'esercito dei babilonesi. Dov'è questa grota? In quale si trova questa l'arca del patto? Esattamente come è stata descritta. Ebrei hanno perso di vista e le generazioni sono passate, quindi probabilmente come i rotoli che stavano intatti per due mila anni ad aspettare che qualcuno per caso scoprisse questi tesori, quindi ancora oggi da qualche parte vicino a Gerusalemme, in qualche grota nascosta, sta ancora questa l'arca del patto. Ebbene, qui nel quindicesimo secolo avanti Cristo, qui nel deserto del Sinai, vicino ai piedi del ponte Sinai, c'è stato l'inizio della richiesta dell'arca del patto, del tabernacolo la parte dell'eterno, lo Himadonai, che chiese a Mosè questa arca del patto, questo tabernacolo in cui anche lui sarebbe abitato in una casa, in una tenda come il suo popolo e quando si spostavano nelle tende si spostavano anche lui, per dare una presenza visibile che uno che ama la gente, che ama il popolo e quindi vuole abitare, far vedere che anche lui abita in mezzo a loro. E guardate, quando Mosè scriveva le parole che lui parlava sul monte Sinai e anche nel corso di questo viaggio, Mosè le scriveva in un rotolo, sulla pelle degli animali in un rotolo. E alla fine, in questi rotoli che abitanti di Qumran copiavano, e anche le parole che adesso leggeremo, fanno parte dei rotoli speciali, perché sono stati scritti da Mosè e fanno parte di quelle categorie di rotoli speciali che loro studiavano giorno e notte Torach Moshe, Pentateuco, 5 rotoli, libri di Mosè. E sentite dentro, in questi rotoli, dove l'origine dei rotoli speciali è già descritta in queste parole in traduzione dell'ebraico. Quando Mosè ebbe finito di scrivere in un rotolo, tutte le parole di questa legge, diede ordine ai leviti che portavano l'arca del patto dell'Eterno, dicendo, prendete questo rotolo della legge e mettetelo accanto all'arca del patto dell'Eterno e del vostro Elohim, Dio, perché rimanga là. Quindi i rotoli che Mosè ha scritto sono stati depositati accanto all'arca del patto, come speciali. Perché speciali? Perché dentro c'erano le parole che l'Eterno Elohim Adonai ha raccontato. Ora, cosa interessante che i rotoli che i abitati di Comran hanno copiato, da qui i rotoli di Mosè sono stati trovati, le copie che loro hanno copiato, riportano le informazioni di popoli che vivevano nel quindicesimo, quattordicesimo, secolo prima di Cristo. I popoli di qui, storici, greci, poi romani e dopo nel Medievo, non hanno scritto nulla storici, tanto che negli ultimi secoli, nel nostro moderno tempo, molti critici hanno detto che i rotoli di Mosè sono una favola, non è esistito nessun Mosè nel quindicesimo secolo, le cose che ci sono questi rotoli che erano con ebrei, che che Mosè c'era nel quindicesimo secolo e ha scritto questi rotoli, è solo una leggenda. Bene, in questi rotoli sono state riportate le parole che Mosè ha scritto, che l'Eterno ha detto e anche i nomi dei popoli che esistevano in quell'epoca lì. I titi, farisei, cananei e c'è un elenco di popoli antichi, popoli che oggi non esistono più, non ci sono nel Medio Oriente, popoli che già all'epoca dell'impero romano nessuno conosceva e sapeva. E siccome archeologia e la storia non raccontava nulla dell'esistenza, sono passati per leggenda, come popoli che non sono mai esistiti, ma erano solo ricordati da questi rotoli perché Mosè nel quindicesimo secolo ha raccontato che esistevano, si chiamavano i titi, i titi e tanti altri e così via. Quando le scoperte archeologiche dei studiosi nel Medio Oriente hanno iniziato a scavare e trovare i resti delle città, dei villaggi, dei popoli, i titi, i tei e i filistei, si sono meravigliati perché hanno capito che non sono le leggende, hanno fatto gli esami, hanno visto che si sta parlando degli oggetti, oggetti in legno, in ceramica, in scrittura e in altre cose che fanno dimostrare che veramente nell'antichità, anche nel sedicesimo, quindicesimo secolo a.C., all'epoca di Mosè, veramente questi popoli esistevano. Quindi ecco una ulteriore dimostrazione che parla che questi rotoli sono nati in un'epoca veramente quando questi popoli, di cui poi si ignorava l'esistenza, sono scritti veramente in un'epoca quando questi popoli esistevano. Riguardo poi le cronache di altri rotoli in cui si parla di un altro popolo, filistei. Il popolo filisteo purtroppo non ha lasciato documenti riguardo a sé, non c'erano le tavolette, le documentazioni, praticamente nessuna traccia è rimasta dei filistei. E quindi era conosciuto soltanto per la cronaca di questi rotoli speciali che il mio popolo ebrego ha copiato anche a Frana, anche il Medievo fino ad oggi. E i filistei lo stesso sono stati considerati come una leggenda, come mai esistiti. Non c'era nessuna traccia, nessun documento. Grazie agli scavi in Egitto, nelle tombe dei Faraoni, hanno trovato le vecchie dinastie dei Faraoni che hanno avuto le guerre coi vicini filistei. E non solo le vignette di come erano vestiti questi filistei e altre documentazioni, scavi archeologici che hanno riportato la luce nel Medio Oriente, oggetti appartenuti ai filistei, le testimonianze che raccontano come in questi rotoli antichi raccontano l'esistenza dei filistei. Nei rotoli di Mosè, uno dei 5 rotoli che Mosè ha scritto, Genesi o in ebraico si chiama Bereshi, si sta parlando della storia del padre degli ebrei, Abramo, Abraham. E quando Mosè ha ricevuto informazioni dalle teme riguardo come è nata la storia del nostro pianeta e poi com'è andata dopo il diluvio riguardo questo Abraham, Abramo, ha scritto le informazioni che Abramo è stato chiamato dall'Eterno dalla città Ur di Caldea. Ora, questa è un'altra città, un altro dato che c'è nei rotoli antichi che è stato preso di mire di critiche dicendo che Ur di Caldea non esiste perché né archeologi né storici hanno trovato mai da qualche parte l'esistenza, la traccia e i resti di una città che si chiama Ur di Caldea e il Mesopotamia nel Medio Oriente Oriente. Solo grazie ai scavi archeologici sotto le sabbie del deserto hanno trovato enorme palazzo con le scalinate che chiamano zigurazzi e quando hanno decifrato e hanno tolto tutte le tonnellate di sabbia sotto le sabbie del deserto hanno trovato i resti delle fondamente, delle strade, delle case, degli oggetti che sono stati rinvenuti e hanno decifrato. La città antica si chiama Ur, è Ur di Caldea dell'antica Mesopotamia, quindi esattamente una città che esisteva in epoca remota molto prima quanto accadevano queste qua a Mosè. E quindi queste sono informazioni che sono state riportate in questi scritti di antichi che dimostrano che questi rotoli veramente parlano delle cose non leggende false ma delle cose reali e queste informazioni, questi rotoli sono stati scritti in un'epoca veramente antica. E sentite cosa fu detto? Che dovevano essere messi accanto all'arca del patto, ma non solo, fu detto un'altra cosa ancora riguardo a questi rotoli antichi. Quando in questi rotoli antichi di Mosè speciali si diceva quando nel futuro il popolo ebraico e i giudei avrebbero voluto scegliere un re per avere un re come altre nazioni che avevano. Dovevano fare così. La moltiplicazione e la copia di questi rotoli speciali dove sono le parole dell'Eterno. Quindi questi rotoli non erano messi nell'arca del patto per essere nascosti lì. No, dovevano essere messi lì per essere custoditi dai leviti ma per poi essere copiati per altri. Sentite qui la traduzione. Questi sono documenti, resti del Deuteronomio, uno dei cinque rotoli di Mosè, rotoli speciali che contenevano parole dell'Eterno all'Uchi Madonai, trovati nella grotta numero 4 con i rispettivi codici. Traduzione riguarda il re e la copia di questi rotoli. Quando siederà sul trono del suo regno, scriverà per suo uso in un rotolo, in un libro, una copia di questa legge, questi rotoli che Mosè ha consegnato. Secondo quale esemplare? Secondo l'esemplare dei sacerdoti levitici, quelli che portavano quest'arche avevano i rotoli originali che Mosè ha consegnato. E poi? Cosa farà io con queste copie di questi rotoli che saranno uguali a questi originali rotoli? La terrà presso di sé e la leggerà tutti i giorni della sua vita per imparare a temere l'Eterno e il suo Elohim e a mettere in pratica tutte le parole di questa legge e questi statuti. ecco l'origine della trasmissione, della diffusione dei rotoli. E non soltanto il re, anche altri nel seno del mio popolo avevano delle copie e delle copie che a loro volta potevano leggere per insegnare i bambini e nelle sinagoghe e durante le festività si leggevano. Quindi il popolo conosceva questi contenuti. Il re che leggeva tutti i giorni questi rotoli, alla fine le conoscevo quasi a memoria. Faccio un esempio. Una opera, per esempio, molto conosciuta in Italia, che tutti la conoscono, tipo quasi tutti, Divina Comedia, no? Di Dante. Perché molti della scuola propongono, anche per l'esame della maturità, Divina Comedia o magari Promessi Sposi, vero? Ecco. Immaginate adesso una nazione che conosce Promessi Sposi quasi a memoria e quindi è divulgata e quindi è letta e copiata e fa parte di un patrimonio letteratura italiano. Se io oggi volessi cambiare, modificare, falsificare due o tre capitoli del Promessi Sposi di Divina Comedia, tutta la nazione avrebbe detto fermati, perché non è che c'è solo una copia e tu dici che la tua seconda è quella giusta. Ormai sono state fatte copie del popolo, sappiamo cosa dice il libro Divina Comedia oppure Promessi Sposi. Avete capito? Ecco come questa diffusione di questi rotoli speciali aiutava la conservazione. Quando il mio popolo veniva saccheggiato, distrutto, Gerusalemme era incendiata, molti di questi rotoli venivano diverse copie bruciate, però le copie che erano praticamente diffuse nell'interno del popolo venivano riprese a essere copiate perché si diceva erano identiche come quelle precedenti. Ecco la trasmissione dei rotoli nel corso dei secoli. E non solo. Come si poteva sapere che nel futuro gli altri personaggi dopo Mosè, che avrebbero detto di aver visto l'Eterno e l'Ukhim Adonai e hanno messaggi da dare nuovi rotoli, come si poteva nel futuro sapere se questi messaggi sono falsità, invenzioni della fantasia umana e quindi semplici letterature ebraiche o sono rotoli speciali che hanno informazioni sul futuro e sono parola dell'Eterno? Bene, nei rotoli di Mosè, che sono stati nei posti vicino all'arca del Panto, fu detto così, il test per riconoscere come e quando, in quale maniera, dopo i futuri profeti, l'Eterno avrebbe parlato. L'Eterno quindi disse, traduzione, ascoltatevi le mie parole, se vi è tra di voi un profeta, io l'Eterno mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno, non così, e con il mio servo Mosè, con lui parlo faccia a faccia, facendomi vedere ed egli contempla l'assembianza dell'Eterno. Da un pruma al lente, dal fuoco, riuscivano senza un sogno, senza una visione, così come a faccia a faccia parlare con l'Eterno. Quindi fu detto che nel futuro, quando avrebbe parlato, avrebbe dato nuovi messaggi, questi vigenti o profeti e poi scrivevano noturi, davano e ricevevano, avrebbero ricevuto le informazioni tramite il sogno e tramite visioni. Una cosa interessante descritta nei noturi antichi, che coloro che avevano le visioni, di solito o cadevano con gli occhi aperti, oppure, se non cadevano con gli occhi aperti, perdevano il respiro. Scrive un altro, e mi manca persino il respiro. Se la visione durava due o tre minuti, uno senza respiro, può darsi, se è abituato di andare in apnea, riesce a stare due o tre minuti senza ossigeno. Ma se la visione durava a mezz'ora o due ore, vuol dire che durante la visione gli mancava respiro, quindi potevano esserci danni cerebrali, ma il cervello è quasi impossibile che uno può falsificare una visione in tre ore, per dire. Quindi la modalità o sogno o la visione, durante il sogno avevano gli occhi aperti e di solito mancava respiro. Ecco il vero test che aiutava abitanti di Qumran, il popolo ebraico nel passato, a distinguere i veri rotoli speciali da semplici letterature ebraiche o dai rotoli che non hanno nessuna importanza. Come avrebbero potuto distinguere un rotolo vero? Il test è questo, è riportato, già citato anche in diverse volte dai abitanti di Qumran, quello stesso test che è riportato nei rotoli di Mosè, per capire i rotoli speciali da rotoli falsi, da rotoli non importanti. Ecco qui il test, è stato ben scritto nel rotolo del Tempio e di nuovo citato in un rotolo dove loro riportavano le parole dei cinque rotoli di Mosè, che hanno questi codici qua. Traduzione, l'Eterno all'epoca di Mosè disse, il vero test distingue i rotoli speciali da rotoli falsi. E se tu dici in cuor tuo, come faremo a riconoscere la parola che l'Eterno non ha proferito? Ed ecco il test. Quando il profeta parla nel nome dell'Eterno e la cosa non succede, non accade e non si avvera, quella è una cosa che l'Eterno non ha proferito, non ha rivelato, non ha detto. L'ha detto il profeta per presunzione, non avere paura di lui. È un falso. Avete capito il grande test? Come il mio popolo ebraico e come abitante di Qumran, tra 900 rotoli che sono stati trovati nelle 11 grotte che sono nel Museo Rifugio Antiatomico, non tutti i rotoli sono di grande importanza. Loro stessi nei loro rotoli dicevano che c'era solo una categoria scritta degli antichi che erano speciali. Vedrete nei DVD in tre, quattro sedate abbiamo visto profezie, questi rotoli speciali. Tutte le profezie scritte si stanno realizzando, si sono realizzate. E questo il mio popolo ebraico vedeva. E questo è l'unico test per distinguere un rotolo vero, speciale, che conteneva le parole dell'Eterno. L'ha detto il profeta per presunzione di non avere paura di lui. Ci sono molte literature, tra i rotoli e i 200 rotoli, letterature ebraiche, i libri scritti apocrifi, libri di cui non si sa chi era scritto chi era autore. Sono generi opere letterarie ma non fanno parte dei rotoli speciali. Abitanti di Qumran non li meditavano giorno e notte, abitanti di Qumran non si dedicavano lo studio. Non li citano nelle testimonianze particolari. C'è una lista di diverse opere che sono state trovate a Qumran, che non fanno parte dei rotoli speciali, ma erano documenti speciali che abitanti di Qumran hanno scritto e loro, in quei scritti, quando scrivono di cose importanti, citano solo i testi dei rotoli che hanno le profizie sul futuro che si sono già realizzate, dei rotoli speciali. Per esempio, come ho detto prima, nel rotolo della comunità abbiamo citato la colonna 8 dove citano queste categorie. Poi c'è un documento 4Q174 che è un rotolo che spiega e aggiungono le profezie di questi rotoli speciali di quante cose si sono realizzate e si realizzano nel futuro. Quindi questi documenti, che sono altri rotoli che loro hanno inventato scritto, per loro importanti ma per chi citavano questi stessi rotoli che vivono nel futuro. Un altro documento è 4Q246 che riporta le profezie di rotolo speciali di Daniele. Un altro documento, 4Q175, riporta e cita le profezie speciali di cinque rotoli di Mosè e di altri profeti, altri profeti quali, per esempio, in altri rotoli si parla di profezie di Sarni, di Ezechiele, di Generia, Zaccaria, Amos, Osea, Michea e così via. Sono tutte le citazioni di rotoli speciali. Come mai in questi rotoli dove loro scrivevano e si interessavano sul futuro, sulle cose importanti, non citavano le opere generali della semplice letteratura ebraica che c'era, perché non erano rotoli speciali. Quindi citavano soltanto, in particolare approfondivano, le opere che dimostravano e erano parte delle rotoli speciali dove c'erano le parole dell'Eterno. Queste cose qua si possono vedere nel 11Q13, documento Melchizedek, 4Q174, che è un commento sul futuro, 4QMMT e gli altri documenti ancora che avevo già adesso indicato, ma ci sono ancora. Quindi loro erano interessati al futuro, alle profezie, sono le parole dove in queste rotoli si parla che esistono esseri celesti dell'universo, abitati di altri pianeti. E in questi rotoli dove era rivelato il futuro erano interessati di quanto questo essere mezzo esteri celesti, questo essere supremo, Elohim Adonai Yahu, rivelava il suo futuro. Ed ecco perché diceva, l'unico testo per capire quale rotolo dove lui ha rivelato il futuro e riporta le sue parole è questo. Se il rotolo è rivelato, rivela il futuro e accade così, è il rotolo che viene e le parole sono sue. Se non accadono, l'ha parlato per presunzione. E sentite un'altra descrizione, un altro testo in questi rotoli riguardo le truffe, riguardo i presunti profeti o falsi veggenti che si possono rappresentare dicendo, ho sognato il sogno, ho avuto le rivelazioni sul futuro da parte sua, oppure mi ha detto questi messaggi, per te sono vigente o profeta. Sentite che cosa fu detto, un altro testo ancora. Rotolo del tempo indicato. Se sorgi in mezzo a te un profeta o un sognatore di sogni che ti proponga un segno o un prodigio, un miracolo. Attenzione, non dice uno che ti rivela il futuro, perché dice in questo rotolo, rotoli speciali, che nessuno sa il futuro in anticipo come l'eterno e l'uchimadonai, è l'unico che rivela. E queste rotoli sono speciali per questo. Solo qui, in questi rotoli, il futuro è rivelato. E quello che vedrete nei DVD non esiste nei documenti dei romani. I romani non sapevano il futuro. Impero greco, avevano centinaia di dei, non sapevano, ne avevano profezie sul futuro. Impero babilonese, e loro dei, non sapevano, non hanno dato le profezie sul futuro. Le uniche profezie, gli unichi reperti archeologici che oggi abbiamo nel museo di Giosolevo sono queste in cui il futuro è rivelato. Vedrete il dico di numero uno, due, tre, così via, solo qui il futuro è rivelato. E qui si dice, solo lui conosce il futuro. Quindi, se sorge un profeta, un sognatore dei sogni, che ti proponga non il futuro, ma un miracolo, una guarigione, un'opera straordinaria, il fuoco che cade dal cielo, qualcosa che lui ti dice e te lo fai, tu vedi, una cosa soprannaturale, grande, un prodigio. Sentite cosa dice qui? E se il segno e il prodigio di cui ti ha parlato accade, si avvera, e poi questo sognatore ti dice, seguiamo altri dei che tu non hai mai conosciuto e serviamoli. Tu non darai ascolto alle parole di quel profeta o di quel sognatore di sogni. Quindi nemmeno miracoli, nemmeno un'opera straordinaria sono in test, non sono in test. Che uno fa qualcosa di straordinario, ti dice che accadrà straordinario, e allora dice, ecco questo è il profeta, puoi insegnare, dice cosa dice l'Eterno. No, questo non è abbastanza. L'unico test è solo quando si rivela il futuro. Se il profeta dice una cosa e non accade, non ha parlato all'Eterno, le profezie sono false, non l'ha mandato all'Eterno, ha detto per presunzione. Quindi, la stessa cosa, neanche un prodigio o un miracolo sono abbastanza per credere che colui che ha fatto, ha predetto un miracolo, può essere accettato quello che scrive come parole dell'Eterno Dio. Abitanti di Qubran sapevano questo, copiavano, ed ecco come facevano la differenza tra i rotoli importanti che venivano messi vicino all'arca del patto e quelli dopo che sono venuti dopo Mosè. Perché in questa categoria che loro citavano, Torach Moshe e Chanevim, i profeti, e cinque libri di Mosè che erano messi vicino all'arca del patto, loro copiavano solo i rotoli e dedicavano, loro studi in particolare, nei loro scritti citavano le profezie di quei profeti dove nei loro rotoli il futuro si realizzava. Quando dopo Mosè è venuto Giosuè, il profeta Samuele, poi altri profeti e altre profezie di Re Davide, poi di Geremia, Isaia, Ezechiele e così via, le profezie di questi profeti si sono realizzate e il mio popolo ebraico copiava questi rotoli e queste copie erano divulgate in Israele, dicevano guarda le cose che ha detto già durante la nostra vita si sono realizzate e tutti ridevamo dicevamo che è impossibile che accade una cosa del genere, come diceva, è accaduto davanti a noi, il futuro ha rivelato, il futuro è accaduto, quindi prendevano rotoli di questi profeti come rotoli speciali perché i messaggi che loro dicevano che l'Eterno ha detto per loro erano le parole che l'Eterno ha detto. Nel rotolo di Isaia che vedete questo qua, nel grotto numero uno trovato e oggi conservato nel rifugio antiatomico, ci sono le parole che dicono così, cercate nel rotolo, nel libro dell'Eterno, questo rotolo ha descritto profezie che sono realizzate e le parole che Isaia dice di aver sentito che l'Eterno ha detto su tutte le future generazioni e sulle generazioni che erano all'epoca di Isaia, sono state considerate le parole dell'Eterno e questo stesso rotolo, è lo speciale in questo stesso rotolo, dice questo rotolo, questo è il libro, le parole sono dell'Eterno. Ecco perché questi rotoli per abitanti di Qumran sono speciali, ecco prediligono, amano di più leggere questi rotoli che gli altri, ecco perché altri rotoli, 200 rotoli, a loro quelli normali, opere letterarie, li avevano, ma non li vegevano giorno e notte, non dedicavano e non amavano preferire quelli a studiarli e avere una cura quando li copiavano e Giuseppe Flagov scrive di questo e loro stessi raccontano di questo. Ecco come queste profezie, questi rotoli erano copiati di secolo in secolo, questo rotolo, l'Eterno della prima grotta, abitanti di Qumran lo hanno copiato e del secondo la pelle dell'animale, questo qua, è del secondo secolo avanti Cristo, quindi è vecchio 2200 anni, ma è scritto l'epoca dell'imperatore Sacco, ottavo secolo avanti Cristo, quindi un rotolo dei scritti degli attichi e loro lo avevano, lo leggevano. Abitanti di Qumran hanno insediato il villaggio di Qumran nel secondo secolo avanti Cristo, fino al 68 dopo Cristo. se loro si sono stabiliti nel secondo secolo avanti Cristo, come mai nel loro villaggio sono stati nelle grotte trovati i rotoli del terzo secolo avanti Cristo, rotoli che sono più antichi di loro, perché hanno ricevuto dagli altri ebrei, dagli altri giudei, rotoli che esistevano prima, che anche loro li hanno copiato e studiato dopo. E questa è una cosa straordinaria, e prima dell'attacco dei Romani nel 68 dopo Cristo, sono andati a nascondere tante grotte, hanno già nascosto, questi rotoli, queste giare con terracotta, con questi rotoli che sono rimasti vintati per quasi 2000 anni, finché la primavera Beduino Mujamendi, per caso cercando la gabbia smalita, ha trovato queste giare con dentro i rotoli. E cosa interessante è questa, che le testimonianze riportate in questi rotoli fino ad oggi ci danno la possibilità di vedere come la storia si è realizzata fino ai nostri giorni. Vedrete nei DVD le profezie che loro citano, profezie di Daniele, uno dei rotoli più importanti dei profeti che loro leggevano, ha descritto tutta la storia in anticipo. Quando il mio popolo ebreico copiava le profezie di Daniele, i critici fino a qualche secolo fa, alcuni anche alcuni decenni fa, dicevano che sono le profezie false, non vere, perché scritte dopo Cristo, dopo quando i imperi sono già accaduti e le cose sono realizzate. Solo grazie al ritrovamento di questi rotoli si capisce finalmente che questi rotoli, in base alla lingua, in base alla natazione, sono vere profezie che sono scritte in un'epoca prima di Cristo. Fino al 1947 non potevamo avere una questione testimonianza come quella. Grazie per la vostra attenzione. Lunedì vedremo il racconto che ci sia nei rotoli antichi, che ho già promesso sarebbe stata per questa sera, ma preferisco spostarla per lunedì. Il racconto che parla e i rotoli che parlano dell'esistenza di altre forme di vita dell'universo, esseri celesti che sono iscritti in questo rotolo, altri abitanti di altri pianeti, perché i rotoli parlano anche di questo, che il nostro universo non è vuoto. In questi rotoli si parla che coloro che hanno visto il passato, lo chi madonnai, hanno visto anche, ha avuto diverse occasioni di vedere queste forme di vita, questi esseri intelligenti, esseri personali dell'universo, e leggeremo i testi che parlano di un conflitto che è iniziato nell'universo prima dell'esistenza del nostro pianeta. È in seguito, in questi rotoli si parla, che è anche questo conflitto a cui voto il nostro pianeta. Potete prendere i tv di, mi raccomando, le lune e due, così ci vediamo lunedì. Grazie per la vostra attenzione, se avete domande fate pure. E poi mi raccomando, per martedì sera, se portate persone nuove o quando venite, guardate bene il dvd numero 2, perché senza il dvd numero 2, martedì sera, il pomeriggio, sarà molto difficile capire una delle più storidari profezie che esistono le scritte tra i rotoli antichi. Questa testimonianza e questa dimostrazione della trascuratezza da parte dei mass media e delle pubblicazioni su questa categoria di scritti più importanti di Qumran. Tale categoria è vittima di un'esistenza di un'esistenza di un'esistenza di un'esistenza di un'esistenza